Nuovo corso per il Banco BPM che gioca a raddoppio, razionalizza le filiali e si impone quale gruppo bancario più radicato in Lombardia. 71 filiali attive nel Varesotto grazie alla somma delle 37 di Popolare Milano più le 34 già targate BPM. 13 le sedi destinate alla chiusura per evitare doppioni e per garantire una distribuzione più capillare. A lunedì 26 novembre avrà decorrenza giuridica la fusione tra la Banca Popolare di Milano e il Banco BPM. Pertanto da tale data tutte le 71 filiali di questo gruppo bancario presenti in provincia di Varese lavoreranno insieme. Da qui l'auspicio appunto della First Cisle dei Laghi di una presenza di questo gruppo che è il primo gruppo come radicamento in Lombardia per un rilancio delle politiche creditizie nella nostra provincia a servizio di imprese e famiglie valorizzando insieme anche le professionalità dei colleghi e delle colleghe che abitano e che lavorano in questo nostro territorio.